Affidarsi ai social network per esprimere la propria delusione, così ha fatto Daniele Bennati scrivendo su Twitter le sue sensazioni dopo la grande delusione maturata alla Milano-Sanremo. Non poter disputare una volata dopo 300 km per una caduta mi fa veramente girare le scatole naturalmente. Daniele Bennati quindi non nasconde la sua delusione dopo il decimo posto, figlio anche della sfortuna nella classicissima che lo ha visto quinto nel 2010 e sesto nel 2009. Stavolta Bennati è stato tradito da una sbandata del collega amico rivale Tom Bonen che cadendo di fatto lo ha costretto ad una brusca frenata che gli ha fatto perdere la ricorsa giusta al momento dello scatto decisivo. Purtroppo là davanti il suo compagno di squadra, il potentissimo Fabian Cancellara, è stato beffato proprio sulla linea del traguardo dal furbo australiano Gerrans mentre al terzo posto si è classificato Nibali. Bennati però ha confermato il suo buon momento e martedì non a caso aveva disputato una buona cronometro alla Tirreno Adriatico giungendo secondo proprio dietro la locomotiva cancellara. Adesso il corridore retino tornerà in Belgio a gareggiare esattamente venerdì alla freccia di Arelbe che mentre domenica sarà tra i protagonisti della grande Vevegem Corsa che lo ha visto già in passato sfiorare il successo.